eccoci qua siamo tornati a funghi nei nostri posti di funghi oggi è domenica 19 giugno 2011 e abbiamo trovato i primi funghini eccolo qua i tre primi funghini 2 ecco quello della nonna questo la nonna e questo il mio papà che adesso stiamo facendo il filmato eccoli qua due piccoli porcinelli visto che fanno i birichelli e cosa abbiamo visto cinque minuti fa che passava minuti abbiamo visto un bel 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 capriolo un bel capriolo con i cornini ecco il guido new entry che ne ha trovato uno eccolo qua che bellino per me domani 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 vediamo se troviamo quel fratello teo con quel bastone che tra me fa la folle ce l'ho ce l'ho il coltello questo è il do porcino guido allora basta porcini non ha già cinta non ha trovato un altro piccolino ma bellino bellino avrebbero anche voglia loro ma di uscire ma allora proseguiamo se troviamo qualcos'altro documenteremo grazie